Buon pomeriggio a tutti, eccoci con la ripartenza, quindi riapriamo con questa prima sessione delle due che aprono pomeriggio e intanto una presentazione velocissima, avete già visto chi c'è? Abbiamo Vincenzo Mollace, ci racconterà la sua storia, abbiamo Ivano Pallanzani, abbiamo Michela Giuffrida, Alessandro Russo, Giovanna Casadio, Antonella Dodaro e Domenico Vivino. Paola, bottero lo dico io. Intanto complimenti a voi che ci seguite, il programma è veramente fitto, quindi è una prova di forza non solo per chi l'ha organizzato ma anche per chi lo segue e quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito finora che si è stati numerosissimi e attentissimi. Io comincio a dire qualcosa in più dal lato mio perché Michela Giuffrida che ho qui accanto oltre a essere stata fino alla scorsa legislatura un euro parlamentare è esperta delle tematiche di cui parliamo e è anche un volto notissimo, in questo caso si può dire, del giornalismo e della tv siciliana. Il professore Mollace è uno scienziato di fama che ha scoperto le virtù e porta avanti una battaglia per valorizzare, per promuovere nel mondo le virtù di un frutto che cresce solo, io lo chiamo così, in provincia di Reggio Calabria. Ivano Spallanzani è stato presidente di Confartigio Nato, insomma è una persona che di cooperazione, di sviluppo, di piccole imprese se ne intende davvero molto. Ma anche di banche perché abbiamo tutti dei super titolati, persone che ci racconteranno grandi esperienze. Giovanna Casadio ci vorrebbe una giornata solo per presentarla, è una giornalista di Repubblica ed è una bellissima persona, oltre che una bellissima professionista. Antonella Dodaro è un editore, anche lei è una gran bella persona, è una persona che ha una ferita grossa dentro, parleremo anche di questo, e questa ferita è diventata la voglia di abbattere quel silenzio di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, ne abbiamo parlato stamattina con Caffiero De Rao e ieri con Gratteri. Ha tanta voglia di raccontare anche lei e ci aiuta raccontare. Domenico Vivino, intanto un applauso, è nato Giosuè, il primo di ottobre, dal primo di ottobre è papà Domenico e nonostante questo è arrivato a Palermo da un piccolo paesino di San Floro e ce lo racconterà. Però siccome ci piace mescolare le carte e siccome Michela è anche una collega intanto, passo la parola a te Giovanna. Sì, allora comincio subito io perché mi fa piacere passare velocemente la parola a Michela Giuffrida. Allora Michela Giuffrida è una collega giornalista che io conosco e stimo da tempo ed è stata nella passata legislatura, cioè quindi fino a pochi mesi fa, eurodeputata per il Partito Democratico. Ha raccolto nelle ultime europee più di 50.000 preferenze, perché voi sapete che le europee si va avanti a preferenze, quindi lì c'è poco da bleffare. I posti che sono scattati per l'Europarlamento in Sicilia per il PD sono stati pochi, lei diciamo per un pelo non è entrata. Mi piace presentarla io perché spesso in questi anni, negli anni del suo lavoro da eurodeputato, io ho sentito Michela e sempre le ho raccontato e mi sono fatta raccontare ma com'è per una siciliana, lei mi pare che fosse proprio nella commissione regionale per l'assegnazione dei fondi europei, confrontarsi con l'Europa e tu riesci a portare, io le chiedevo sempre delle cose buone per questa regione, per questa Sicilia? Quindi io volevo che lei adesso un po' riandasse a quelli che sono stati i suoi anni in Europa, per dirci com'è stato. Intanto grazie, grazie per l'invito, grazie per la bellissima presentazione, per le belle parole che avete speso nei miei confronti, la stima è tutta ricambiata nei confronti di Giovanna, grande firma di Repubblica, giornale del quale sono stata corrispondente per la Sicilia per 21 anni, è una cifra che mi fa spavento perché fra le cose che ho fatto c'è stato anche questo, raccontare la Sicilia per un grande giornale come Repubblica. Quello che tu mi chiedi Giovanna è un po' fare una diciamo esperienza di déjà vu e raccontare quello che è stato un po' un contrapasso perché come hai detto da giornalista ho fatto questa esperienza al Parlamento europeo volendo fortemente lavorare nella commissione, in quelle che sono le due commissioni che io ritengo più importanti per questa terra, la commissione sviluppo regionale e la commissione agricoltura. Io sono stata membro di queste due commissioni, la prima è quella che scrive in pratica l'agenda dei fondi europei, la seconda è inutile soffermarsi sul ruolo importantissimo che ricopre il settore dell'agricoltura per una terra il cui territorio è per più dell'80% a vocazione agricola o agricola rurale. Dicevo del contrapasso perché fare questa esperienza da giornalista ti impone un continuo confronto con quello che sei stato, con quello che sei, con quello che dovrebbe diventare questo rapporto che prima di tutto è di integrazione, che è una delle parole purtroppo scomparse, il disappear, è proprio la parola rete, integrazione, in questo rapporto mai realizzato appieno e soprattutto per una piena proficuità che è il rapporto di interlocuzione tra questa terra meravigliosa alla quale sono profondamente legata, io sono orgogliosamente siciliana e l'Europa che per noi è, diciamolo in modo franco e sincero, oggi la vera unica opportunità. Sol perché è il posto dove ancora oggi si può attingere a piene mani in quella materia di uso dei fondi europei nella quale purtroppo non siamo ferrati. E fare l'esperienza da europarlamentare essendo giornalista è appunto una doppia sofferenza perché prima hai raccontato tutto quello che potrebbe essere e non è e poi devi provare a far funzionare queste cose facendo i conti con una mancanza, scusate io sono, chi mi conosce sa che sono molto franca, tanto a volte da essere anche molto antipatica, avendo una mancanza di interlocuzione. Perché il vero problema siciliano è che questa interlocuzione non è mai stata realizzata e che la Sicilia non riesce a fare lobby in Europa e che non riesce a sfruttare le proprie potenzialità pur avendo una barca di soldi a disposizione. Perché quando sentite quello che si alza e dice chiediamo più fondi in quel momento si sta commettendo l'ennesimo delitto. Noi abbiamo tanti, troppi fondi, tanti che non riusciamo neanche a utilizzarli. Quando capisci che quello che manca poi appieno se vuoi essere spietato fino in fondo è la progettualità allora realizzi qualcosa che fa veramente male perché cerchi disperatamente un'interlocuzione che non arriva quando partecipi alle cabine di regia e ti manca l'interlocutore istituzionale allora lì sei veramente con le mani legate. E qui parliamo, parlerete di case history. La case history che andrebbe raccontata in un felice rapporto tra la politica, l'imprenditoria e la realizzazione di una terra meravigliosa, lasciatemelo dire, forse è la regione più bella d'Italia, se mettiamo insieme tutto il resto, se mettiamo la gastronomia, il territorio, l'identità culturale, il fatto che la Sicilia sia la regione italiana con il maggior numero di siti riconosciuti dall'UNESCO. Sono primati che vanno inanellati uno dietro l'altro e che portano sempre alla stessa domanda, ma allora perché? Ma allora perché rimane questo grido che a volte sembra inascoltato con una realtà che è sempre a due velocità. Quelli che sono bravi e ce la fanno, ce ne sono tantissimi siciliani a proposito di case history, che ce la fanno, ce la fanno alla grande, diventano imprenditori, fanno i soldi. E quelli che invece continuano ad annaspare nel buio, nel vuoto, alla ricerca di qualcuno che ti tenda una mano o che realizzi quelli che sono i tuoi sogni, che magari per qualcun altro sono assolutamente a portata di mano. I progetti, ma chi di noi non ha progetti, chi nel mondo dell'imprenditoria non ha buone idee, ma a volte realizzarli o realizzarle è molto più difficile di quello che sembra, pur avendo a portata di mano anche un plafon economico che potrebbe realizzare. E la Commissione Sviluppo Regionale si occupa proprio di questo, realizza i tuoi sogni a patto che i tuoi sogni siano un progetto attendibile, abbiano degli interlocutori qualificati, abbiano in pratica tutte le carte in regola per poter accedere a quelle che sono credenziali europee. Farlo da giornalista significa anche raccontare tutto questo, trovi un altro muro, perché fino a poco tempo fa, adesso la situazione è molto cambiata perché di Europa si parla tutti i giorni, Giovanna ha anche il tuo giornale, dedica ormai la maggior parte della foliazione a questi europei, ma solo fino a tre anni fa o a quattro anni fa non era così. La Commissione europea era un'entità, oggi invece è entrata anche in una frequentazione collettiva, in un immaginario che non è più tale, perché bisogna fare i conti, perché in televisione si sente tutti i giorni parlare di flessibilità, di questioni che sono europee, che sono entrate nel frasario collettivo. Ma comunicare quello che fa l'Europa, al di là dei soliti luoghi comuni, l'Europa delle banche, l'Europa dei grandi, l'Europa del rigore, ecco questi pensate ci sono ormai entrati nel frasario collettivo, ma se andate un po' a chiedere, non dico lo spread perché poi l'hanno spiegato tante volte, ma questo difficile rapporto con la flessibilità o tutto quello che sviluppa dinamiche europee, se andate appena appena in fondo e andiamo in giro tra la gente, nessuno saprà mai spiegare esattamente che cos'è, di cosa stiamo parlando e quali siano le problematicità. Perché diciamo questo? Diciamo questo in un contesto, approfitto per fare i complimenti all'organizzazione di queste tre giorni che avete messo in piedi, ieri sono stata spettatrice del panel moderato dal direttore Mieli, si parla di sviluppo, si parla di sviluppo sostenibile e sono i veri grandi temi europei, si parla di integrazione, si parla di sostenibilità, è questo che deve e può realizzare l'Europa e allora dobbiamo impegnarci, perché non voglio farla lunga e credo di aver già superato il tempo a mia disposizione, perché questi al di là di concetti magnifici o di grandi sogni, siano concetti che concretamente possano essere accessibili a tutti, perché l'integrazione significa questo e anche la sostenibilità e il rapporto con l'Europa al di là di quella che è l'entità del non luogo Bruxelles, che a volte diventa il luogo del peggiore immaginario, perché anche nei telegiornali Bruxelles è sempre un'entità cattiva nel rapporto con la gente, perché Bruxelles è quella dei conti, è quella del rigore, a Bruxelles invece si sviluppa un futuro che è già presente, come si diceva e come si dice nel tema di questa manifestazione? Per chi lo sa realizzare, per chi sa fare rete, per chi ha gli strumenti per conoscere e per chi soprattutto riesce ad interpretare quello che è un concetto di integrazione come fusione di esperienze. Se noi pensiamo, faccio un unico esempio, visto che dopo si parlerà di case history, lo dicevo poco fa a Giovanna, andando controcorrente, solo pensando, veniva da questa conversazione, e su questo apro una brevissima parentesi, al successo enorme che ha avuto un programma che parla di cultura ad altissimi livelli, che parla di un grande della storia come Leonardo da Vinci, che parla di esperienze che vengono ormai descritte come non popolari e di disinteresse totale rispetto a quello che è il target medio. Ulisse e Leonardo da Vinci, uno share del 20%, sbaraglia programmi popolari, come amici eppure che cosa racconta? Racconta l'identità di un territorio, la bella storia di un grande paese come l'Italia, un genio italiano e raggiunge il pubblico a tutti i livelli. Questo significa che non ci sono barriere, che la cultura è prerogativa di tutti, che basta raccontare una bella esperienza per farla diventare appetibile usando gli strumenti giusti e seguendo questo sistema si può veramente arrivare dappertutto. Perfetto, grazie. Ho notato anche la cordialità con cui hai salutato Saverio Romano, forse lui ha preso qualche voto in più di te, mi pare. Mi piace molto che ci siano posizioni politiche diverse, però ci sia anche questa cordialità, questa voglia di ascoltarsi. Prendo la parola io passo subito a Antonella Dodaro. Io introduco questo discorso perché la mia carriera di giornalista è iniziata con il giornale che lei e la sua famiglia hanno fondato. Io riassumo brevemente la storia, è una famiglia segnata da un grave lutto perché il padre è stata una vittima innocente della mafia, il padre è un grande imprenditore nel campo dei salumi, è stato ucciso per una questione di pizzo, di estorsioni e lei e suo fratello che erano piccoli, lei 14enne, credo Francesco, un 17enne, hanno preso in mano l'azienda di famiglia e l'hanno portata avanti, l'hanno portata a livelli altissimi e poi hanno deciso di buttarsi nel campo dell'editoria, hanno fondato il quotidiano della Calabria, il quotidiano della Basilicata, ora il quotidiano del sud. Quindi è una storia emblematica perché è la storia di una famiglia di una persona che in un campo che tutti reputano perdente, che è quello dell'informazione, è riuscita ad affermarsi. Vai Antonella. Grazie, intanto complimenti, poi ci torno dopo. Diciamo che non è un campo perdente, oggi è un campo difficile, mi trovavo a parlare, io sono qui da ieri con diverse persone anche del settore, con Parisi, con altri giornalisti, la gente legge, legge tantissimo, il problema è che non si comprano più i quotidiani, non si comprano i quotidiani né cartacei né digitali, però c'è un'esigenza di informazione e come si diceva ieri nel dibattito proprio con Parisi c'è bisogno anche di una informazione di qualità. Noi ci abbiamo provato Sandro e devo dire che il mercato ci ha anche premiato, poi l'avvento della crisi ma soprattutto l'avvento delle nuove tecnologie che cannibalizzano anche in maniera diciamo hackerata i nostri sforzi produttivi ovviamente rende tutto molto difficile. Se a questo aggiungiamo che poi viviamo, diciamo abbiamo operato almeno fino a pochissimo tempo fa, soprattutto nelle regioni meridionali, oggi con l'altra voce dell'Italia siamo in tutta Italia, abbiamo operato però nelle regioni Calabria, Basilicata, Campania che sono tra le regioni più povere sotto l'aspetto del reddito pro capito e quindi un euro e venti, un euro e trenta hanno un peso diverso su una famiglia meridionale rispetto che ha un reddito pro capito ovviamente più basso rispetto a un euro e venti, un euro e trenta del nord Italia dove comunque ci sono anche investitori pubblicitari con un peso specifico diverso. Ecco per noi è sempre stato molto difficile e quando è arrivata la crisi quasi quasi per noi è stato più facile affrontarla perché di momenti belli ne abbiamo sempre visti pochi e nonostante tutto comunque siamo riusciti credo a fare un buon lavoro, ripeto non voglio farmi complimenti al mercato che ce l'ho attestato e tu dicevi bene abbiamo voluto prima mio fratello che è più grande di me poi io l'ho seguito non solo dimostrare che a sud si può fare impresa ma che a sud si può fare anche un'impresa difficile come quella di un quotidiano consentitemi libero perché mio padre se c'è una cosa che ci ha insegnato è stata quella che voleva essere un uomo libero, libero anche dalla schibitù di pagare il pizzo, libero di esprimersi, un uomo self made man lo definiremmo in inglese, c'è un uomo che si è fatto da solo, dal basso e ha realizzato grandi cose e quindi la libertà è un valore fondamentale. E forse per noi la sfida del quotidiano è stata proprio quella di non solo fare impresa ma un'impresa ancora più difficile e libera, un'informazione libera e devo dire che la scommessa grazie ai giornalisti perché noi gestiamo l'impresa ma l'informazione la fanno i nostri giornalisti, ottimi professionisti tutti, è riuscita, più difficile è fare l'impresa però, è stato più facile fare un'informazione di qualità e libera, è più difficile mantenere l'impresa. Io qui voglio, diciamo, mi hanno colpito tre cose che sono state dette in queste tre giornate, la prima l'ha detta Bianchi ieri, il direttore dello Svimez, la seconda l'ho sentita dal dottore Baldessarri e poi l'avvocato, il giudice della Corte federale degli Stati Uniti, vado per ordine. Condivido molto quello che ha detto ieri Bianchi perché non c'è un problema del sud a mio avviso, c'è un problema italiano, io mi sento italiano, sono un imprenditore italiano che opera in una zona molto più difficile perché è scarsamente infrastrutturata e queste infrastrutture sono sia tangibili, materiali, sia immateriali, quando parliamo di cultura, di scolarizzazione, diciamo che non è a livello parificato in tutto il nostro paese e quindi è un problema italiano che si può risolvere però partendo dal colmare questo divario, divario che non si colma solamente con i denari, diciamo con le risorse che pure abbiamo come diceva prima la giornalista ma non sappiamo nemmeno utilizzare bene e io dico che oggi, Roberto Napoletano lo illustra quotidianamente sul nostro quotidiano, il problema è che abbiamo, ci hanno sottratto anche le risorse ordinarie e queste risorse ordinarie forse pesano più di quelle straordinarie che pure non sappiamo utilizzare perché poi l'Europa dà risorse per dei progetti specifici, le imprese vivono quotidianamente, non sempre si devono, come dire un imprenditore non deve realizzare necessariamente un progetto, non possiamo diventare progettisti di un progettificio per prendere i soldi, io penso che un imprenditore i soldi li deve poter fare, quindi ci vogliono delle convenienze e poi questi imprenditori se reinvestono il frutto della loro impresa è giusto che vengano detassati e se invece questi soldi gli imprenditori come pure è legittimo poter fare li vogliono spendere in altre e non nelle proprie imprese è giusto che vengano tassati, questa è la mia idea di imprenditore del sud, io mi sento imprenditore dell'Italia e dicevo l'altra cosa che ho condiviso però che mi ha colpito perché non viene da persone che diciamo fanno impresa e quanto detto stamane da Baldessarre a proposito dei capitali perché uno dei problemi delle imprese non è tanto trovare i capitali per l'avvio delle proprie iniziative ma è quello per il circolante, lo chiamiamo noi e soprattutto poi per lo sviluppo, se io voglio fare un investimento e non ho più capitali di proprietà, sfido qualunque imprenditore non solo del sud ma sicuramente quelli del sud a riuscire a trovare un istituto di credito, un istituto bancario che riesca ad affiancarti lo diceva benissimo, è più facile che trovi qualche imprenditore molto ben capitalizzato per cui o consapevolmente o inconsapevolmente corri anche il rischio di finire in un circolo non virtuoso su cui vorrei stendere un velo pietoso, li vediamo, vediamo tante attività che oggi anche sane poi finiscono per non esserlo più e l'ultima cosa è ancora secondo me più importante che non ha a che fare comunque con il capitale, con i finanziamenti è quella che ricordava proprio il giudice della Corte d'Appello federale degli Stati Uniti quando parlava di stato di diritto, io la chiamo la certezza del diritto, è un imprenditore naturalmente destinata a prendere decisioni in situazioni di incertezza, ma in Italia è un caos, cioè noi aspettiamo ogni finanziaria per sapere e adesso cosa succederà, ora quale misura si inventeranno, una, due, tre, poche, ma definitive, ma stabili, abbiamo bisogno di regole certe anche perché quando non ci sono regole certe, quando ci sono troppe regole che vanno anche l'una in contrasto con l'altra favoriamo solo la burocrazia che ci sta soffocando. Grazie. Parlando di case history ci sono tante storie da raccontare e non dovremmo mai smettere di farlo. Una di queste storie parte dalla natura, anzi due di queste storie partono dalla natura e sono una di qua e una di là. Inizio con la prima e lascio poi a te la seconda. c'è una caratteristica degli scienziati, noi abbiamo la fortuna di aver lavorato in questi giorni con una persona splendida che è una scienziata, c'è un'umanità forte negli scienziati, forse questo ricercare molecola a molecola porta ad andare oltre, a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Vincenzo Mollaccio è un docente universitario, è un chimico, un farmaceuta, ha una serie infinite di cose che vi racconterà. Un giorno con un suo amico che fa tutt'altro, che è un architetto, vede questi frutti meravigliosi che portano soldi da una vita in Francia, il bergamotto, tutta l'industria francese dei profumi è basata sul bergamotto. Si chiede come mai in Calabria il bergamotto non lasci nulla, se non l'odore brutto quando macera. Iniziano, proprio come diceva Antonella, a fare impresa nel senso di essere imprenditori e non prenditori, c'è una differenza molto grande e sostanziale, mettono i picci loro, quindi investono soldi personali e creano una piccola realtà che nel frattempo è diventata una grandissima realtà. Si chiama ED, lavora nella nutraceutica, parte dai polifenoli di bergamotto, perché ci sono polifenoli di tante altre risorse naturali, ma quelle del bergamotto, praticamente avete preso il mercato nazionale e internazionale. Ce la racconti la storia di ED e del bergamotto? Sì, grazie. Intanto un ringraziamento perché la possibilità di illustrare questo tipo di modello sostanzialmente è anche l'opportunità per documentare che al sud c'è la chance seria se le cose si fanno in un certo modo di riuscire a conseguire certi risultati. Tonella prima rappresentava uno spaccato estremamente importante con un vissuto significativo. Il caso specifico è nell'ambito della volontà di dimostrare che la ricerca che sta alla base, in questo caso di questa esperienza, sono realmente il volano per aumentare la credibilità di prodotti sul mercato e quindi di poterli imporre a livello nazionale e internazionale. Non venendo molto bene in primo piano ho scelto di proiettare qualche diapositive, quindi vi ringrazio per questa licenza. L'idea era di riuscire a trasformare quelle che erano delle informazioni in un campo. Nutraceutica sarò estremamente breve, sono sei diapositive ma era necessario farsi accompagnare da qualche cenno che possa essere un take away poi per le cose che stiamo dicendo. La nutraceutica è sostanzialmente riuscire a offrire dei prodotti naturali nell'ambito dell'agri-food che siano in condizioni di poter essere utilizzati per la salute umana. Ora è notorio se andiamo nei supermercati, nelle parafarmacie, nelle stesse farmacie, ormai il mercato del cosiddetto naturale è un mercato che copre almeno il 50% del fatturato all'interno di questo tipo di area. Nella maggior parte dei casi però non abbiamo nessun controllo di qualità di quello che ci viene dato, molto spesso il materiale arriva da paesi nei quali noi non abbiamo la possibilità di effettuare un controllo preventivo e quindi diciamo che gli aspetti di sviluppo e nuova occupazione che pure sono insiti all'interno di risorse che abbiamo nei nostri territori, penso alla Sicilia, alla Calabria ma anche in generale tutta la parte dell'Italia meridionale, non sono accompagnate da un adeguato livello di credibilità che ne consenta l'approdo sui mercati. Non solo ci togli i primi piani, non vai nemmeno avanti. No ma sarà rapidissima la cosa. L'idea è stata quella di creare un modello che noi abbiamo denominato from trees to bedside proprio perché va dalla piantagione, dalla plantation direttamente sino al prodotto finito. In mezzo ci sono gli elementi che danno credibilità a questo sistema cioè riuscire a identificare le fonti in maniera adeguata e ad avere delle cose per le quali uno scrive fuori la quantità di quello che c'è in termini di principi attivi, l'averlo fatto nell'ambito di una sperimentazione preclinica e solo dopo approdare alla realizzazione di prodotti che vanno all'interno del mercato perché non è assolutamente vero che tutto quello che è naturale obbligatoriamente faccia bene. Nella maggior parte dei casi bisogna avere le giuste cautele. Attraverso questo si è riusciti a creare un modello in cui stavano assieme non solo la creazione di questo tipo di prodotti ma anche la sostenibilità dal punto di vista ambientale che all'interno di un sistema circolare porta a poter utilizzare i sottoprodotti delle filiere principali come nel caso del bergamotto e infine a poterli registrare a livello internazionale. Quello che ne è venuto fuori è un network dove stanno assieme circa 80 aziende dove vedete ci sono degli indicatori che vengono ad essere richiesti sui mercati internazionali che riguarda la qualità di quello che si produce in termini di ricerca scientifica, come i prodotti sono rappresentati, che capacità hanno di andare a intercettare delle risorse non solo, parliamo di risorse pubbliche, ma in maggior parte dei casi sono risorse private che quindi non vanno ad incidere, pur essendoci una serie di opportunità non utilizzate all'interno di questo contesto, ma soprattutto quello di andare a rafforzare dei patent, cioè dei brevetti e dei brand i quali hanno la chance attraverso questo modello di imporsi a livello internazionale. Quello che però mi piace sottolineare è che questo tipo di modello è un modello che fa crescere la filiera perché aumenta, lo vedete, nell'arco di 14 anni di sforzi significativi il valore del prodotto sul mercato, quindi ricadute importanti per tutti i produttori e per i trasformatori del bergamotto che ha un aumento consistente in controtendenza del numero di ettari che sono messi a dimora come bergamotto ma soprattutto c'è un aumento consistente del numero di persone che lavorano, vorrei sottolineare che questo modello ha portato ad un incremento di 40 unità nelle unità di ricerca che si occupano solo di bergamotto in questo tipo di settore sono tutti giovani ricercatori che sarebbero andati a finire sicuramente fuori siccome non avevamo delle grandi chance da poter offrire, il tutto lavorando all'interno di una valorizzazione del carattere di filiera, soprattutto di filiera capace di coprire come dicevamo prima from trees to bedside, quindi diciamo questo rappresenta un'esperienza, un modello che abbiamo immaginato così di proporre come sistema attraverso il quale ci sono una serie di altre filiere sulle quali non c'è questo livello d'attenzione, la filiera olivicola per esempio noi buttiamo dalla finestra circa 500 milioni di euro l'anno solo ed unicamente con l'acqua di molitura delle olive all'interno abbiamo prodotti che sono di estremo interesse sul mercato nutraceutico penso, e la Sicilia in questo è leader a livello nazionale e internazionale alla filiera per esempio vitivinicola in cui molti degli scarti sono rappresentati dalle finacce e dei semi di uva sono dei potenti nutraceutici estremamente studiati per cui se riuscissimo ad attingere meglio alle risorse e ai sottoprodotti in modo particolare che derivano da queste filiere riusciremo a restituire come stiamo facendo 4 euro a quintale in più ai produttori per gli scarti che prima erano un inquinante e che oggi invece valorizzati diventano dei prodotti importanti all'interno della filiera chiudo col fatto che questi elementi ai fini della sicurezza alimentare quindi nella filiera anche come alimento in ambito veterinario stanno diventando un fatto estremamente appetibile e richiesto questo vuol dire riuscire migliorando la qualità delle carni e dei prodotti lato caseari a poter dare un contributo significativo è un modello che probabilmente in termini di sostenibilità di prodotti nel corso dei prossimi anni potrà essere in qualche modo un modello di riferimento soprattutto per il futuro cui noi stiamo guardando in questo modo grazie della vostra attenzione e dell'ospitalità Enzo io ti chiedo però una cosa perché non tutti sono sul pezzo velocissimamente in un minuto come sai fare tu lo spieghi a cosa serve il bergamotto nella nutraceutica il bergamotto serve per dire che serve per tante cose sarebbe ridondante in particolare però quello che abbiamo appreso diciamo dalla medicina tradizionale e che migliorava rendeva più si dicevano i vecchi medici della provincia regina che il bergamotto chiarifica il sangue ecco questa attività è legata al fatto che essendo cento volte più ricco dalle altre specie che ci sono in circolazione di polifenoli hanno attività antiossidante e abbassa il colesterolo grazie bene e adesso siccome andiamo un po' velocemente chiediamo a Domenico Domenico Vivino allora Domenico ha intrapreso così giovane come sei questa attività del nido di seta un'attività che non solo è buona è una buona pratica ma anche un'antica pratica dal gelso alla seta ecco come ti è venuto in mente e ovviamente tu la lasci a Giosuè tutta questa partita Giosuè che è appena nata prima di tutto vi volevo ringraziare per averci dato l'opportunità di presentare la nostra realtà in questo meeting internazionale noi veniamo da San Floro un piccolo paesino della provincia di Catanzaro e come diceva abbiamo ripreso una delle storie più antiche della nostra terra che è appunto la gelse di bachicoltura ovvero quella filiera che parte alla terra come vedete dagli alberi di gelso passa attraverso l'allevamento dei bachi da seta e arriva alla produzione del filo più pregiato del mondo che è la seta la storia parte appunto da quello che è un territorio abbandonato del nostro comune dove sorgevano circa 3000 piante di gelso abbiamo iniziato così con i primi allevamenti di baco da seta questo è un miracolo Domenico aspetta ok era per non interrompere il video e fare l'uno e l'altro però va bene ormai sei in camera quindi va bene questo è un miracolo della natura ovvero questo è l'opera che il baco da seta realizza in soli 30 giorni che è un bozzolo che pensate contiene fino a 2 km di filo continuo noi secondo la tradizione, secondo passaggi artigianali estraiamo il filato per arrivare a quelle che sono le matasse di seta che poi vengono lavorati tingiamo esclusivamente con prodotti del territorio questo è un esempio di radice di robbia abbiamo la cipolla di tropea quindi sono tutti colori che ci regala il territorio per poi arrivare ai prodotti finiti come le sciarpette, le borsette, le cravate abbiamo anche una linea di gioielli e rigorosamente la tessitura avviene a mano la nostra è stata sì un'impresa quindi per far crescere la nostra cooperativa ma soprattutto è stata una sfida cioè quella di ritornare nella nostra terra lo slancio è stato quello di cercare di dare un contributo serio concreto alla nostra terra e penso che ci stiamo riuscendo perché noi partendo da questa attività abbiamo puntato su un'agricoltura multifunzionale quindi partiamo dal gelso dal gelso estraiamo le foglie che vengono somministrate ai bacchi perché il baco si nutre esclusivamente di foglie di gelso le foglie vengono anche trasformate in tisane le more che è il frutto ne raccogliamo a quintale nel periodo di giugno vengono trasformate in confetture extra quindi siamo in agricoltura biologica certificata naturalmente come abbiamo visto andiamo a finire nell'artigianato e poi abbiamo pensato all'ecoturismo cioè noi essendo in un paesino di 600 abitanti abbiamo provato a innescare un sistema turistico che parte appunto dal centro storico per arrivare poi nelle campagne quindi facciamo vivere al visitatore tutto quello che è il mondo rurale legato alla seta quindi facciamo vivere delle vere e proprie esperienze cioè facciamo raccogliere le foglie facciamo vedere come viene estratto il filato manualmente e quindi il visitatore diventa protagonista di quella che è la nostra lavorazione e poi naturalmente si innesca un meccanismo di vendita diretta perché in azienda abbiamo il nostro agri shop dove il visitatore vede qual è la strada per arrivare al prodotto finito capisce l'importanza che ci sta dietro al prodotto perché un prodotto del genere per noi non rappresenta solo una semplice merce ma racchiude la storia, la tradizione e la cultura di un territorio e poi racconta anche quella che è stata la nostra voglia di fare l'amore per la nostra terra perché la nostra cooperativa prima che essere una storia imprenditoriale secondo me è stata una storia d'amore verso la nostra terra in breve questo è quello che facciamo volevo fare un appunto su quella che è la nostra visione di dare il contributo alla terra perché noi con questa impresa abbiamo cercato sì di far crescere la nostra azienda ma puntiamo soprattutto a far crescere il nostro territorio perché è una strada che deve essere parallela cioè la crescita del territorio è molto importante ad esempio con un sistema di ecoturismo in un paesino di 600 abitanti che fino a qualche anno fa nessuno conosceva purtroppo siamo arrivati diciamo in queste stagioni ad arrivare a 6.500 visitatori in soli tre mesi quindi questo significa in soldoni che 6.500 persone vistano anche il centro storico ne usufruiscono le attività commerciali i bnb, i mezzi di trasporto e quindi si crea un indotto molto interessante e in più quello che ci teniamo a sottolineare è che insieme per arrivare a questo prodotto finito c'è tutta una filiera artigiana di artigiani sparsi sul territorio quindi non solo a San Floro ma nella provincia di Catanzaro nella provincia di Cosenza tutto rigorosamente fatto a mano e quindi come dire prevalentemente donne io sono l'unico uomo all'interno di questa filiera e mi occupo personalmente del settore agricolo per il resto sono tutte donne quindi dalla post produzione all'ecoturismo all'artigianato abbiamo rigorosamente delle mani femminili in più siamo in agricoltura biologica certificata questo ci teniamo a dirlo perché un'azienda del genere deve per forza mantenere un rapporto armonioso tra quella che è l'azione antropica e poi la natura circostante ecco questo che vedete anche un museo della seta che gestiamo perché era sempre diciamo facente parte di questo progetto comunale che poi è stato abbandonato quindi quello che io dico sempre è che il futuro del sud ce l'abbiamo già sotto i nostri piedi perché secondo me la Calabria come tutto il sud Italia è una vera miniera che aspetta solamente di essere riscoperta valorizzata in questo caso parlando di agricoltura questo è un appello che faccio soprattutto ai giovani anziché abbandonare la nostra terra dovremmo ritornare e continuare a coltivarla e a proposito di bergamotto abbiamo appena lanciato le confetture con un mix tra mora di gelso e bergamotto che è veramente molto interessante mi dispiace non averle potute portare qua ma in aero non le facevano portare grazie ancora per questa vostra opportunità potete visitare il nostro sito web nidodisetta.com e vedere quello che realizziamo grazie mille allora io cedo ora la parola all'illustre collega Michela che farà la domanda di Manamo Spallanzani che è stato già presidente della Conforti Genato presidente della Banca di Sassari per l'ultimo intervento di questo blocco poi abbiamo il direttore Roberto Napoletano con la sua requisitoria sul sud e sull'operazione verità e non a caso non gli abbiamo messo accanto un giudice che è Antonello Colosimo e un avvocato che è Raffaele Bonsignore quindi sarà anche una parte molto divertente grazie allora giusto per chiudere questo cerchio così come l'abbiamo avviato in considerazione del fatto che Ivano Spallanzani è presidente della Banca di Sassari in un panel che è tutto calabrese l'avete notato ed è stato presidente di Conforti Genato Imprese racchiude in sé quella che è una problematicità di rimpallo che sempre le imprese fanno al sistema bancario che è quello dell'accesso al credito cosa di cui appunto ci siamo occupati moltissimo in Commissione in Europa proprio perché rappresenta uno dei più grossi a volte insormontabili problemi da superare come si vive oggi questo rapporto come si può fare impresa migliorando quello che è l'immancabile collegamento che ci deve essere sul finanziamento che poi viene appunto dall'accesso al credito e che cosa si può anche a livello europeo sollecitare a quella che è una nuova legislatura che si è appena aperta ci sono state le audizioni in questa settimana appena conclusa con lo che è i commissari quindi si avvia una nuova legislatura con tutte le aspettative che ci sono rispetto a questo era aperto eh no ma l'hanno chiuso no è stato chiuso non doveva essere chiuso non la voce forte? pronto? ecco qua intanto la ringrazio ringrazio per la domanda risponderò sulle questioni sul credito come lei sente io sono il più a nord di chi è intervenuto perché sono emiliano e allora vedo il mondo della piccola impresa e dell'artigianato da una posizione diversa dal mezzogiorno e intanto sono molto lieto di aver visto qui Gerardo Sacco che è uno dei più grandi artigiani che abbia che abbia non solo la Calabria ma che abbia che ha che ha che ha l'Italia e voi pensate alla devo fare una breve storia nel nel 47 ci fu un deputato alla costituente che propose un emendamento la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato è l'unica costituzione al mondo che prevede una specifica tutela per l'artigianato ed è la parola tutela il costituente l'ha utilizzata soltanto nove volte una è per l'artigianato perché? perché capì e lì il primo a votare a favore di quell'emendamento fu Di Vittorio perché Di Vittorio votò a favore di quel primo emendamento presentato da un deputato democristiano era un friulano il senatore Gortani perché Di Vittorio aveva capito che solo con l'artigianato la piccola impresa si poteva creare occupazione in quel periodo in quel drammatico momento quello capì fra l'altro nei confronti di una categoria che essendo proletario e padrone nella stessa persona esulava da quelli che erano i concetti fondamentali delle teorie in quel periodo delle teorie comuniste cioè il proletario e padrone nella stessa persona l'artigiano è colui che deve essere tutelato perché è colui che può creare occupazione e così fu e così fu nelle nostre zone dove ci furono i grandissimi licenziamenti la Ferrari la Maserati nel Reggiano le Fonderiere Unite eccetera tutta la gente licenziata migliaia di operai sapevano lavorare iniziarono un'ottività imprenditoriale cominciarono a fare gli artigiani da piccoli diventarono grandi cominciarono piano piano a crescere e crearono un sistema occupazionale un sistema produttivo polverizzato che è stato quello poi che in fondo ha creato il nostro sistema produttivo così positivo diciamo da un certo punto di vista tant'è che siamo arrivati oggi faccio naturalmente i dovuti salti siamo arrivati oggi ad avere il 90% del sistema produttivo italiano che ha meno di 10 dipendenti il 97,5% ha meno di 15 dipendenti questo è questa è la realtà purtroppo ci scontriamo continuamente con una opinione politica tanto quei professori di politica economica che hanno letto solo dei libri scritti da gente che ha letto solo dei libri perché non hanno assolutamente la cognizione di quello che è la realtà questi professori politica economica che continuano a dire diventate grandi se siete troppo piccoli diventate grandi se siete troppo piccoli hanno creato un sistema legislativo hanno imposto hanno provocato un sistema legislativo che come se tutti avessimo dai 10 dai 100 ai 200 500 mila dipendenti mentre invece ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 un sistema produttivo completamente diverso da quello naturalmente che richiede la domanda della piccola impresa che così è in Italia non è che dice ma dove deve andare più grande no così è chi può diventare più grande diventa più grande noi abbiamo l'esempio nella nostra città di Ferrari che è partito Enzo Ferrari è chiaro questo è un paradosso partì a fare l'artigiano in una piccola bottega a Modena è diventata la Ferrari ma così tanti altri bisogna partire dal piccolo e poi dopo diventare grandi non si può colpire il piccolo facendo una legislazione per il grande la quale legislazione per il grande piove sul piccolo e lo ammazza allora il piccolo cosa fa? il piccolo va il piccolo va a nero si nasconde il ministro Visco quando ero presidente nazionale mi chiedeva ma mi dia una mano lei a combattere il sommerso gli disse il ministro il sommerso c'è perché l'acqua che è alta perché se voi abbassate le vostre leggi cioè abbassate le leggi le fate comprensibili fate le leggi fate le leggi comprensibili un fisco adeguato la legislazione è comprensibile per la gente eccetera è chiaro che la gente emerge ma se voi continuate a mettere delle clausole vessatorie punitive nei confronti della piccola imprenditoria del centro di medio questi cosa fanno? si nascondano anche perché in questo paese vige la regola che chi non ha la targa non prende la multa allora si tolgono la partita IVA e naturalmente non prendono più la multa si chiama sommerso e si chiama sommerso avete provocato il sommerso si è provocato il sommerso perché la legislazione è fatta e qui bisogna tirare fuori addirittura Hegel cioè ciò che è reale è razionale hanno fatto una legge sull'irreale fanno le leggi sull'irreale che è la grande impresa credendo che tutta l'imprenditoria sia grande invece è piccola e quando fanno la legge sull'irreale quando l'irreale piove sul razionale lo blocca questo è l'opposto logico Hegeliano e questo è il grande errore che continua ad essere continua ad essere fatto perché noi ascoltiamo i professori di politica economica che invece di fare una legislazione adatta al sistema della piccola imprenditoria fanno una legislazione che è in contrasto con la piccola imprenditoria perché fanno delle teorie poi c'è qui nel mezzogiorno io sono da 30 anni circa con Nino nell'associazione Magna Grecia da Modenese ma cosa ho notato io nel mezzogiorno io nel mezzogiorno ho notato quanto giravo fra tutto il sud per tanti anni ho notato due cose fondamentali il problema degli insediamenti produttivi la questione degli insediamenti produttivi io ricordo andavo a Messina a Messina a Messina un bel giorno mi fecero visitare onorevole Romano a Messina i miei artigiani di Messina che non trovavano il posto di lavoro il posto non di lavoro dove poter lavorare io mi ricordo a Villa Franca c'era la Pirelli di Sbessa che come potevano fare nel nord poteva essere naturalmente ristrutturata e chiedere agli artigiani quanti metri quadri volevano e metterli dentro a lavorare e avrebbero lavorato nella legalità avrebbero rispettato le leggi dello Stato invece no gli artigiani non potevano avere il posto dove poter lavorare non potendo rispettare la legalità lavoravano in nero della totale illegalità io mi ricordo portare gli artigiani di Bergamo a San Piero Patti che avevano gli amici lassù i bergamaschi rimasero impressionati dalla capacità dalla conoscenza che avevano quegli artigiani meglio di loro però dice qui non possiamo lavorare non abbiamo incendiamenti produttivi questo era un grande problema del mezzogiorno che c'è ancora non in tutto il mezzogiorno ma in tante parti c'è quello di poter dare il posto di lavoro alla piccola imprenditoria a noi in Emilia Romagna se le hanno dati i comunisti in Veneto le hanno dati i democristiani ma qui non le ha dati nessuno né i comunisti né i democristiani questo è stato ma a Napoli la stessa cosa a Napoli avevamo i pellettieri che non sapevano dove andare a lavorare dovevano scaricare a nero e avevamo Napoli esco i capannoni vuoti e il bassolino diceva vinto tutto non ci ha dato mai niente insomma ci sono delle l'altra cosa che dicevo per il mezzogiorno che è una questione questa poi storica cattavica è il problema dell'associazionismo io ho visto nei miei 12 anni di presidenza nazionale crescere le zone dove aumentava l'associazionismo economico aumentava lo sviluppo economico ho visto l'Abruzzo il Molise ho visto Foggia Bari Lecce non ho visto Taranto e Brindisi ho visto Potenza e non ho visto la Sicilia la Calabria la Campania e la Sardegna perché c'è questo problema del mettersi insieme noi abbiamo cercato di metterci insieme abbiamo una mentalità diversa da noi sono andate cooperative bianche, rosse e vere eccetera però io credo che un incentivo al mettersi insieme da parte della politica sia una questione naturalmente fondamentale e basilare purtroppo ci siamo trovati ci è trovati che c'è questa difficoltà nell'associazionismo economico io ho visto ad esempio a Lecce un associazionismo economico eccezionale fra l'altro lì c'era un parlamentare che aveva creato la democrazia nell'associazione eccetera invece di utilizzarla gli artigiani aveva creato questa associazione era l'onorevole Urso ricordo perfettamente e lì c'è un'associazione meravigliosa con gli insediamenti produttivi perché mettersi insieme significa poi andare dalle autorità dall'assessore all'attività produttiva o che di dovere per avere naturalmente le cose che si chiedono per andare avanti ecco io ho l'altra cosa ieri sentivo il professor Poli ma bisogna naturalmente creare le condizioni mi auguro che quello che dice il professor Gratteri è cominciato una nuova il dottor Gratteri ieri è cominciata una nuova primavera mi auguro che sia cominciata una nuova primavera però giustamente mi sono notato dottore quello che lei ha detto ieri i primi cinque punti c'è la frustrazione rancore l'immobilità l'assenza delle istituzioni le speranze deluse inspiegabile e poi c'è l'incapacità di percepire che ci sia una situazione migliore se ci mettiamo il 65% di tassi se ci mettiamo tutte le leggi burocratiche sull'ambiente i rifiuti e la sicurezza sul lavoro e tutte queste cose se ci mettiamo i costi oltre il 65% di tassi di quello che costa mettersi in regola non è possibile fare imprese è terrificante è terrificante cioè bisogna che mi auguro che ci sia questa primavera specie nel mezzogiorno onorevole nel mezzogiorno lei tenga presente una cosa ma lo dico l'ho sempre detto al Parlamento che ogni burocratismo in più che viene messo in una legge dello Stato colpisce più il mezzogiorno che non il nord perché nel mezzogiorno non essendoci le associazioni che fanno in parte da parafulmine nei confronti delle piccole imprese essendoci solo con massima stima i commercialisti costano molto di più costano molto di più cioè ogni burocratismo che viene posto a livello parlamentare è un burocratismo è un costo in più colpisce prevalentemente il mezzogiorno questo è l'altra cosa dall'Europa è che mi auguro che arrivino delle proposte decenti cioè nel senso che arrivano delle proposte che siano tollerabili con il discorso della piccola impresa e non la mentalità sempre della grande impresa devo dire devo dire che a volte dall'Europa arrivano delle direttive generiche generali purtroppo anche qua quando le direttive vengono dall'Europa arrivano al nostro Parlamento come ad esempio se si dicesse che la domenica si va a messa quando arriva al nostro Parlamento vengono a dire la domenica si va a messa con le scarpe di melluso con la camicia di quell'altro con la giacca di quell'altro con il cappello borsalino cosa fa uno non va più a messa e si chiama sommerso e poi c'è stata l'Europa non è vero c'è stato il Parlamento italiano con tutti i lobbisti che sono intervenuti per mettere delle leggi allora anche questa è una questione da evitare invece di complicare la direttiva europea che a volte sono complicate per loro invece di complicare la direttiva europea bisogna cercare di semplificare la direttiva europea e renderla congrua e attiva a quella che è il nostro sistema produttivo italiano il sistema produttivo italiano è questo è quello non diventate più grandi è questo è quello della piccola impresa è fatto così e così rimarrà non so ci sarà un 2 3 4% che cambia raccio però è fatto così per quanto riguarda il credito signora guardi onorevole purtroppo è cominciato a cambiare il sistema bancario adesso si spingono il bottone tac ho luce rossa ho luce verde ho luce grigia c'è sta roba qui io ho fatto il presidente io ho fatto io ho fatto il presidente guardi ho fatto il presidente di sono 36 anni sindacalista per l'artigianato 17 anni sono state le banche in Sardegna a nome della BIP la banca popolare dell'Emilia Romagna mi hanno andato a fare il vice presidente del banco di Sardegna il presidente della banca di Sassi sono stato là però qui guardavano tutti i numeri le carte non c'è più questo è un problema vero non c'è più l'umanità il guardare in faccia la gente io sono stato da tutte e due le parti purtroppo vedo proprio che le banche ma perché è arrivata questa roba qua perché dall'Europa non so da che cosa questa roba qui che l'uomo la carenza non c'è più la personalità non c'è più la fiducia non c'è più il rapporto umano c'è rosso verde o giallo questo questo è il problema delle banche però devo dire che nelle nostre zone non so qui che ci sono più difficoltà nelle nostre zone il credito la piccola impresa lo stanno facendo insomma con le dovute cautelle lo stanno facendo anche perché ne sai quali sono le sofferenze drammatiche insomma che ha avuto l'Italia però che fra l'altro non è la piccola impresa che fa le sofferenze ma guarda caso anche in questi casi è come il famoso discorso dell'evasione fiscale che fanno i grandi che fanno meno i piccoli parentesi mi sembra in questi giorni di essere tornato al 1992 quando facevano vedere le stesse trasmissioni con sempre lo stesso scontrino uguale preciso identico è arrivato a Mato ci ha fatto una manovra di 92.200 miliardi io mi ricordo quella concertazione del 31 luglio 92 che io non firmai che massacrarono il Ceto Medio il Ceto Medio si ribellò chiusero 91.200 imprese artigiane e scomparve la democrazia cristiana che diedero la colpa a Tangentopoli ma siamo stati noi stati artigiani commercianti agricoltori e professionisti non è stata Tangentopoli è stata un aggravante di quello perché non hanno tutelato il loro elettorato l'hanno abbandonato con massima stiva degli amici sia da Antoni che a Bette che comandavano allora con Amato e combina adesso non vorrei insomma sentire sto sentendo le stesse cose dicevo l'altro giorno al professor Baldassarre che è il suo quasi o no omonimo il professor Baldassarre posso fare il nome ricordo era consulente di Confindustria eravamo in una concertazione mancavano 20.000 miliardi e il professor Baldassarre disse bene vediamo la voce lotta all'evasione eravamo nel 92 ecco sono passati 97 anni ma è la stessa cosa mi auguro insomma che quantomeno insomma adesso qualche variazione e qualche modifica ci possano essere per rispondere a quella che è la necessità della nostra gente cioè della piccola imprenditoria che poi è quella sarà l'unica direi di ringraziare di chiudere così anche perché poi non facciamo intervenire gli altri no no grande applauso al presidente di Confartigianato la ringrazio siamo a porto un intervento efficacissimo e puntuale grazie a tutti veramente è che abbiamo fatto un errore abbiamo veramente troppa gente che ha tante cose da raccontare noi dovevamo fare un altro giro siamo andati lunghi abbiamo il prossimo tavolo quindi mentre si preparano gli altri velocissimamente un secondo solo ma un secondo vero ciascuno di voi ci dica se c'è un futuro se ci sono futuri per questo sud e nel frattempo si preparino per cortesia gli altri tre più Nino Foti e però dovete iniziare se no se no inizia ma una battuta una parola e mezza i microfoni sono certo che c'è un futuro il futuro è quello di riuscire ad attingere alle migliori risorse c'erano gli esempi giovani io faccio parte di una generazione che è un po' a cavallo tra quella che è stata una grande illusione alla fine degli anni 60 primi anni 70 e una grande delusione successiva quelle iniziative di recupero di quello che il nostro territorio offre di meglio secondo me sono la via di partenza i problemi del credito tutti i resti sono problemi che pure esistono però sicuramente voglio dire abbiamo le risorse per poterlo fare certamente credo anch'io credo anch'io ci sono le risorse ci sono le capacità mentali ci sono la creatività ci sono tante cose nel mezzogiorno che possono essere utilizzate l'agricoltura mi ricordo la ceramica il marmo ci sono tante cose che possono essere utilizzate spero però devo dire sinceramente qualche dubbio spero che abbia ragione il dottor Gratteri che sia cominciato una nuova primavera Antonello a domanda rispondo certo che c'è un futuro perché siamo qui nel presente che continuiamo a combattere a lavorare proprio per garantire questo futuro speriamo se migliora del presente e del passato intanto un augurio per il futuro però lo faccio a questo convegno che io mi auguro diventi come una Cernobbio del Sud lo merita tutto e faccio i complimenti proprio per la qualità sia dei relatori che dell'organizzazione è merito vostro soprattutto vostro noi come avete visto stiamo basando il nostro futuro sul recupero della nostra storia però ci teniamo sempre a precisare che un buon futuro è sempre come dire va di pari passo con il mix tra tradizione e innovazione perché io dico sempre che la tradizione è stata sempre innovazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti